Musica Benché i suoni possano venire manipolati, effettati, processati in diversi modi, completamente stravolti, comunque hai un punto di partenza che non è il sound design. Pensavo di lavorare a delle sonorità che riflettano in maniera più organica possibile questo ambiente. Dipende dal livello di manipolazione perché si può arrivare a un livello di manipolazione veramente estremo dei suoni. Quello che cercherò di fare io appunto è di lasciare quelle impressioni che la galleria concede quando ci si entra. Mi piacerebbe appunto lavorare tanto con la dinamica e con la dimensione della metà dello spazio. Non abito più a Torino da due anni circa e vivo a Monaco di Bagliere. Sicuramente il landscape sonoro è abbastanza diverso. Ad esempio il suono delle sirene, della polizia e dell'ambulanza, i suoni della metropolitana o del tram. Mi è sempre piaciuto il suono generato dalle macchine, se si può dire. Grazie.